Hey amici, benvenuti al secondo video dedicato al dev server Firebirds, in questo caso daremo un'occhiata a un altro aereo americano, ovvero l'F-15E Strike Eagle. Questo è un F-15 predisposto per l'attacco al suolo, come immagino anche il nome suggerisca, e è stato introdotto con una nuova tipologia di arma. Si tratta di una piccola bomba, circa 300 libre, 120 kg, ma è molto particolare, perché infatti si tratta di una bomba guidata con il GPS ed è planante. Quindi ve la faccio vedere al volo, eccola qua, si può vedere banalmente che ha delle ali che si possono aprire, vedete? No lift on wings, praticamente è indicato per gli operatori che caricano queste bombe di non prenderla per le ali, perché sennò si spezza. Vabbè, ok, scusate per il piccolo dettaglio, però ne può portare 20 l'F-15E, guardate che roba, magari ve le faccio vedere direttamente nel volo di prova, ma intanto guardiamo anche gli altri armamenti dell'F-15E. Quindi può portare, come al solito, un sacco di bombe guidate, tra cui Paveway, JDAM di varie dimensioni e anche AGM-65D, quindi i Maverick guidati con IR. Ovviamente questo F-15 può portare tutte le armi anti-aeree che può portare un F-15, quindi AIM-120A, gli AIM-7M, gli AIM-9L e ovviamente anche gli AIM-9M. Ha una strana disposizione per quanto riguarda i flare, infatti se equipaggiate invece il pod di puntamento Lanter, che è appunto quel sistema che vi permette di guidare le Paveway, ma anche le JDAM, nel senso che potete vedere meglio i bersagli e scegliere meglio dove lanciare quelle bombe, dovete rinunciare per forza a un pod delle contromisure, quindi dovrete rinunciarvi. Altrimenti ve ne potete portare 240 magari in configurazione completamente anti-aerea, praticamente potete portarvi addirittura 8 AIM-120 e quindi siete abbastanza pieni per affrontare qualsiasi minaccia con questo aereo. In pratica sarebbe l'equivalente dell'F-16C per quanto riguarda gli F-15, perché appunto può fare tutto. Ovviamente ci portiamo le GBU-39, magari portiamo anche gli AIM-120 così possiamo buttare giù quei MiG-15 maledetti che ci sono nel volo di prova. Facciamo magari metà e metà di flare e chaff e partiamo. Così vi faccio vedere anche le nuove grafiche per quanto riguarda i post bruciatori. Eccolo lì, ragazzi, è incredibile. Tra l'altro, guardate, è progressivo. Infatti adesso sono al 103% di WEP, ma se aumento, aumenta l'intensità ovviamente del post bruciatore. Che dettaglio bellissimo, così si può vedere perfettamente lo sviluppo dello stadio. Che figata! E ovviamente, guardate... Eh sì, eh! Che figata! Che figata! No, è troppo bello. È veramente, veramente bellissimo. Mi è stato fatto notare che è molto geometrico come vapore, quindi si vede che, insomma, è un modello abbastanza raffazzonato, però è la prima iterazione, quindi io penso che sia comunque un ottimo lavoro. Allora, proviamo a distruggere quel gruppo di unità. Perché sì, si possono distruggere tutti assieme. Adesso vi faccio vedere. Ovviamente sono JDAM, quindi non possono inseguire il bersaglio, potete lanciare contro bersagli fermi, però nonostante tutto adesso vi faccio vedere che figata è questa tipologia di arma. Quindi, iniziamo già a puntare il nostro pod. Andiamo di termico, quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici. Via! Guardatele! Eccolo! Lo stormo! Che violenza! Vediamo! Vediamo l'impatto! Eccoli! Che macello! Tre sono sopra... Anzi no, quattro sono sopravvissuti, però. Figata! Figata totale! E ovviamente... Come radar ha anche l'HMS, quindi potete agganciare... Utilizzando la vista libera del mouse. Vediamo se riesco ad agganciare pure l'altro, devo usare il TWS in questo caso. Eccolo là! Via! Bellissimo! Questo aereo è veramente, veramente figo. Mamma mia! Rinunciate a un po' di contromisure, però... Vale davvero la pena! Vale davvero la pena! È incredibile! Tra l'altro ha anche un radar predisposto per agganciare i bersagli in movimento, come potete vedere. Terrestri. Però... È limitato appunto perché funziona solo contro i bersagli in movimento. E perciò non potete utilizzare l'HGBU39 in questo caso. Però ci sono! Vediamo un po'? Per ridere. No, no, non ce la fa. Vabbè, giustamente. A parte che ero molto basso, però... Contro i bersagli in movimento la JDAM non funziona. O meglio, la JDAM. Il sistema di guida GPS non funziona. Giustamente, eh. Anche i tracer sono stati aggiornati, come potete vedere. Molto, molto bellini. Eh, ragazzi, è... È veramente completo come aereo. Purtroppo sta nella linea dei bombardieri, quindi se non avete portato avanti quella linea, eh, siete un po' fregati per quanto riguarda questo aereo. Penso che sia uno dei migliori aerei in War Thunder. Più che altro, non tanto per l'armamento, non tanto per le prestazioni, ma proprio in generale. Perché è estremamente versatile. Perciò, eh, se avete bisogno di un aereo sia per le realistiche terrestri che per le realistiche aeree, questo è in grado di fare tutto. E perciò è molto, molto figo. Voglio provare a distruggere tutte le unità in una botta, ragazzi. Assolutamente, così ve lo faccio vedere ancora una volta. Allora, avanti. Magari stavolta facciamo così, così. Rallentiamo un po'. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Undici, dodici, tredici, quattordici. Manca poco. Fidici, sedici. Via, 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 via. Eccole. Mamma mia, che impressione. Ristrutti tutti, vero? Sì. Andati tutti, ottimo. Che figata. Stando a quanto hanno detto gli sviluppatori, dovrebbero avere un range di quattordici chilometri, più o meno, se viaggiate circa a novecento chilometri orari. Non lo so, è da provare. È da provare. Devi provare contro quella bagnarola. Uno, due, tre, quattro. Eccole. Che paura. Che paura. Guardate come si allineano. Porca vacca. Già facevo l'impressione quella, quelle cinesi. Queste fanno veramente paura invece. Che figata. Un bellissimo aereo, bellissimi armamenti. Bellissima grafica anche. E poi con la guida di prova. Anzi, il volo di prova che è stato aggiornato ed è perfetto. Veramente una figata. Sembra neanche lo stesso gioco. Impressionante. Questo aereo però non è stato aggiunto soltanto all'America. Infatti lo possiamo trovare in Israele. Chiamato F-15I-RAM. Penso che sia questo il nome corretto. Eccolo qua. L'unica differenza è che questo aereo al momento non monta gli AGM-65. Quindi niente Maverick. Dovrebbe esserci anche una variante di F-15 da attacco al suolo anche per il Giappone. Però al momento non è presente. Detto questo ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video dedicato al dev server. Alla prossima!